Ecco le emozionanti anteprime, dell'episodio 62, della promessa, in onda il 30 agosto. Siete pronti per un'immersione nell'intreccio drammatico? Benvenuti a tutti i nostri spettatori. Vi invitiamo calorosamente a mettere un like a questo video, e a iscrivervi al nostro canale, per non perdere nemmeno una delle entusiasmanti novità che stiamo per condividere. Dopo il cuore intumulto dell'ultimo episodio, in cui Maria, preoccupata per la sicurezza di Giana, ha fermato Manuel nel tentativo di scappare. I destini di tutti si preparano a subire un'incredibile svolta. La scelta di Maria, nata da pura protezione, ha tuttavia creato un equivoco, che spinge il marchese a cercare una fuga notturna, un volo fatale che cambierà tutto. La tragica morte di Manuel, in un orribile incidente aereo, getta un'ombra su tutti. Il giovane marchese, un tempo pieno di vita, ora lotta per la sopravvivenza, mentre Maria si trova a fare i conti con la partenza di Salvatore, e con un futuro incerto per il loro rapporto. Il palazzo, è sconvolto da un annuncio sconcertante. Un corpo senza vita, è stato rinvenuto vicino all'aereo di Manuel. Con il cuore pesante, tutti si preparano al peggiore scenario possibile, credendo che sia proprio Manuel, a essere stato colpito. In questo momento di dolore e incertezza, Mauro, cerca di mantenere un minimo di ordine tra i dipendenti, sottolineando quanto sia cruciale il loro servizio, in momenti così difficili. La madre di Manuel, Jana, è devastata dalla possibilità di perdere suo figlio, e si impegna a trovare il padre scomparso di Manuel. Petra, la marchesa in carica, è incaricata di rintracciare il barone, per condividere con lui le drammatiche notizie. Un compito che affronta con fermezza. Teresa, in un momento di intimità con Jana, fa trapelare il fatto che, ci potrebbero essere eventi negativi collegati al fatto che loro conoscono segreti, che sono ancora sepolti nel buio. Quali verità oscure potrebbero emergere? Potrebbe esserci qualche collegamento con la morte di Manuel? Con la scomparsa di Thomas e la crisi di Manuel, il destino della promessa, pende in bilico, e le scelte di Catalina e Leonor si rivelano decisive. Ma entrambe sembrano riluttanti a sposarsi e a prendersi cura della tenuta in futuro. Mentre i protagonisti si scontrano con momenti di tristezza, e profonda riflessione, il personale di servizio inizia a interrogarsi, sulle sorti della tenuta. In questo frangente di dolore e riflessione, Jana trova un momento di consolazione nell'hangar. Curro, altrettanto scosso dagli eventi, condivide con lei un momento intimo, cantando una ninna nanna, che scuote le emozioni di entrambi. I segreti che circondano questo gesto e le emozioni che suscita sollevano interrogativi. Quali ricordi si risveglieranno? Forse ci sono legami nascosti che riguardano Dolores? E così, cari spettatori, siamo arrivati alla fine, di queste emozionanti anticipazioni dell'episodio 62 della Promessa. Se avete apprezzato questo resoconto, vi invitiamo calorosamente a iscrivervi al nostro canale, per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità e sviluppi della serie. Non perdete l'opportunità di immergervi nelle avventure mozzafiato, che ci riserva il prossimo episodio.